bene ragazzi missione fa esaltare i buchi di pesca sabbia e sudate stagno flopper con chia squalosa alla missione si può completare o qui a sabbia sudate dove vi consiglio che il posto un po con un po più di mare aperto diciamo e con la specie un po più larga in modo che si possa trovare molte più cose o con chia squalosa che sarebbe l'ex squalo oppure sagnoflopper che si trova esattamente qui avevo lo sconsiglio perché tanto è piccolissimo se ci vanno già solo un paio di player la missione si riesce a completare la missione consiste nel far saltare i buchi da pesca quindi basterà un motoscafo o delle granate per far saltare i buchi da pesca quindi non si pesca ma si fa saltare o con una granata o con i missili motoscafo io adesso mi trovo qui in questo punto dove troverete subito i motoscafi per poi dirigervi a sabbia sudate fare la missione quindi se scendete qua trovate subito i motoscafi potete dirigere direttamente a sabbia sudate per completare la missione ragazzi una volta che avete fatto saltare i tre buchi la missione è ben completata come sempre spero che il video visto tutti ragazzi bella